L'incidente nel pomeriggio di giovedì 13 giugno, poco prima delle 18, in via Antonio Merlo all'incrocio con via della Lumaca a Rivarolo Canavese, a scontarsi una forfiesta condotta da un ragazzo e una Peugeot 2008 con a bordo una donna e il bimbo piccolo. L'impatto è stato alquanto violento. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontario di Rivarolo Canavese per la messa in sicurezza delle vetture e i carabinieri per i rilievi del caso.